Nasce per mettere tutti d'accordo, un DS5 non è una vettura qualsiasi, non passa inosservata. Si propone come un'auto coraggiosa per scelte di stile, in grado di andare a conquistare coloro che puntano su personalità e tecnologia e che si identificano in quel modo creativo di fare automobili che lascia il segno. Questa berlina è stata la prima vettura a dar vita al brand indipendente DS di Citroën, sigla usata a un tempo per indicare le auto più lussuose del costruttore d'oltrealpe. Le linee sono grintose ma eleganti, con dettagli stilistici di pregio, a partire dai generosi gruppi ottici DS Vision all'oxeno con luci a LED che ne caratterizzano il design. Il look futuristico è riscontrabile anche nell'abitacolo, con interni altrettanto tecnologici. La plancia è orientata verso il pilota e studiata quasi per abbracciarlo, come se fosse all'interno del cockpit di un aeroplano. Di derivazione aeronautica anche alcune soluzioni di stile come il tetto vetrato composto da tre fonti di luce che offre un ambiente molto luminoso, dandole anche un tocco di sportività. Diversi i motori disponibili, benzina, diesel, ibrida a gasolio, in particolare quella usata per il nostro test drive, presenta sotto al cofano un 2000 Blue HDI da 181 CV. Viaggiare sulla DS 5 equivale a stare in un salottino mobile, la massa è imponente, entra in curva in modo deciso, anche se non è agilissima. E come ciliegina sulla torta non si fa mancare anche la trazione integrale 4WD per andare ovunque. Una cosa è certa, salire a bordo e passare inosservati è impossibile.